Arriva, arriva, arriva N-l-l-la N-l-l-l-l N-l-l-l-l-l-l Chi-n-l-la colomba? N-l-l-l- E tacut al fiulinoce Nu un bell N-l-l-l-l-l Spenta. Questo è diverso, questo è godino. Spenta. Quattro, 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 quattro. Quattro, quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, quattro. Quattro, quattro, quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, quattro, quattro. Quattro, quattro, quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, quattro, quattro. Quattro, quattro, quattro. Quattro, quattro. Quattro, quattro. si viste che ha preso male, ha preso male questa questo avuto è benissimo. 9 o meno i 3? 8 o meno i 3? E non pare tutto? Ti senti di fare! Non so che ci senti di fare! Tu senti di fare che il vostro borde, Gli uomo per il tuo rapporto con la postazione 4. Postazione 4 risponde per cortesia Larrà! La postazione 4 risponde per cortesia. Eggi 40 sono uno precedente. Siamo arrivati con le viste, in sequenza dopo la 29 sono uscite le vetture di 30, 34 minuti, bella, bella! controllare che freni però il freno a mano sarebbe utile bravo, bravo, questa la faccio bella ecco lì, un tempo di prenderlo in pieno, per non consumare i freddi ho fatto l'arga, ho sbagliato completo, poi è spenta mi hai sbagliato tutto, hai sbagliato l'acqua ecco lì, pregolino, 42 ah, peccato peccato ah, che è una nuca, che è una nuca, è una nuca, è una nuca pure questo Grazie alla direzione della gara, quindi a 59 è l'ingresso della prima vettura storica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.